Ciao, prima di iniziare metti un mi piace e premi il tasto iscriviti. Temptation Island, Ale e Federico, la sesta coppia indecisa tra matrimonio e separazione. Il cerchio si sta stringendo e il cast di Temptation Island 2023 è stato svelato quasi completamente. Temptation Island 2023 tornerà in prima serata su Canale 5 a partire da lunedì 26 giugno. Le coppie dello show sono sette. Quante supereranno indenni il falò di confronto e quante, invece, si lasceranno incuriosire da tentatori e tentatrici? In questa edizione, un focus particolare è sulle vicende di Ale e Federico. Una coppia che si trova di fronte a una decisione cruciale, sposarsi o separarsi. Ale e Federico, una storia incerta. Ale e Federico promettono di essere la vera rivelazione di questa edizione del programma. Ale e Federico hanno deciso di partecipare a Temptation Island per mettere alla prova la loro relazione, che sembra essere priva di certezze e stabilità. Alessia, 31 anni. Ha scritto al programma perché è stanca di vivere in una relazione incerta, sono fidanzata e convivo con Federico da tre anni. Ho scritto io a questo programma perché sono stanca del mio fidanzato. Vorrei maggiori certezze, un matrimonio e una famiglia. Ma Federico non mi dà nessuna stabilità. La situazione si fa ancora più complessa quando Federico si mostra irremovibile nella sua decisione di non voler sposare Alessia. Per lui, questa è l'ultima occasione per prendere una decisione definitiva. Questa è la nostra ultima occasione. O ci sposiamo o ci lasciamo. La clip di presentazione dei due ha suscitato grande ilarità sui social, sia per la dinamica della coppia che per il modo esagerato in cui entrambi si sono espressi. La coppia ha già scatenato numerosi commenti e discussioni sui social media. Molti utenti si sono divertiti a commentare ironicamente la situazione paradossale della coppia. Grazie. 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 Grazie.